In piedi riempiamo i calici, siamo pronti, riempiamo tutti i calici, tutti in piedi, facciamo brevisi, tutti quanti, porta, porta, speriamo che tutti quanti abbiano riempito i calici, voi tutti in piedi, facciamo brevisi, tutti insieme, bravistosi, Andrea Michela, siamo pronti, anche i portali, anche Andrea, il nostro tecnico del suono, ok ci siamo, siete pronti, potete prendere anche quell'acqua se siete asterni è lo stesso, allora il mio tre, uno, due, e tre, e dico i risposi, Grazie